Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per salvare tutti quei giubbotti pesanti contenuti fra i completi del CEO e in questo modo potremo salvarli e poi usarli in un secondo tempo ragazzi, ebbene si! ho trovato il modo per poterli trasferire su alcuni completi e quindi intanto vi porto il modo per salvarli ragazzi e poi vi porterò qualche altro completo e come poterci trasferire il giubbotto antiproiettile pesante su quel completo che voi state facendo insomma, quindi detto questo cominciamo subito, avete bisogno di un amico che diventi CEO e che vi inviti nel suo CEO quindi una volta che vi avrà invitato nel suo CEO l'unica cosa che dovrà fare è selezionare i vari abiti che sono presenti all'interno del CEO i vari completi e poi sarà a voi dire al vostro amico di fermare sul completo che volete allora ragazzi, i completi del CEO con questo metodo sono tutti salvabili, si possono salvare tutti però quelli più interessanti sono magari i jogger marroni, qualche completino così, insomma non ce ne sono moltissimi però qualcuno c'è insomma, tipo per esempio i jogger marroni sono decenti, si possono salvare mi sembra che si possono salvare i jogger neri però poi quando si vanno a modificare boh mi pare che non si possano modificare come tutti gli altri mi sembra solo i marroni si possono modificare come tutti comunque sia procediamo con i glitch ragazzi a questo punto quando abbiamo trovato il giubbotto che ci interessa come potrebbe essere questo ce ne sono svariati insomma, no? come state vedendo o come già sapete ce ne sono svariati facciamo che a me interessa questo per non stare qui a selezionare troppe cose andiamo nel bagno e ci mettiamo qui lasciamo comparire la freccia e il nostro amico dovrà posizionarsi su ritirati quasi contemporaneamente, non quasi, contemporaneamente ragazzi vi dico contemporaneamente perché io lo faccio con due play e lo faccio contemporaneamente dovete premere lui, ritirati e voi freccia a destra per entrare nella doccia a questo punto entrate nella doccia, premete triangolo e il completo ragazzi sarà salvato non sarete più nel ceo del vostro amico come vedete io sono in una pubblica ragazzi lo dovete fare in una pubblica oppure in una privata mi sembra si va bene pure in una privata e poi andate a salvare il completo ragazzi lo potete andare a salvare o nel vostro ceo credo non ne sono sicuro, io qui vado in un negozio di abbigliamento che è più sicuro che si salva e a questo punto ragazzi salvate il vostro completo e avrete il vostro completo avrete il vostro gilet da poter trasferire su altri outfit vi porterò il video su come fare questa cosa quindi aspettate con pazienza il video ragazzi per quanto riguarda il borsone ci sto lavorando perché ho provato un vecchio metodo e funziona solamente per chi avvia la missione quindi se magari poi non avete la missione non potete salvare il borsone però comunque sia vedrò che cosa posso fare per questa cosa e cercherò di risolvere quindi una volta che siete nel negozio di abbigliamento ragazzi basterà salvare il completo detto questo ragazzi vi ricordo lo staff del team glitch trovate tutti i link in descrizione link del canale telegram link di tutti i miei social del mio sponsor e di tutto il resto vi basterà aprire la descrizione ragazzi e troverete tutti i link che vi servono detto questo non mi resta che salutarvi ragazzi darvi un salutone a tutti e al prossimo video ciao a tutti no mercy ciao a tutti Grazie per la visione!